Nelle scelte giorni si è diffusa voce su TikTok che ci fosse un filmato hard di Alessia Lanza. Ve lo dico subito, questo filmato non esiste e questa povera cristiana viene ormai messa in mezzo tutti questi scandali creati da TikTok e mi dispiace anche un po' per lei. Cos'è successo? Che come sempre degli account senza proprietario identificabile hanno messo questi filmati con un piccolo frame nell'angolo che sembrerebbe proprio essere Alessia Lanza. Ora cercando in rete e recuperando il filmato originale è abbastanza palese che non sia lei anche perché il filmato non è neanche una roba leggera ma è molto molto spinto. Il filmato che fra l'altro io non mi posso postare né qui né su Telegram perché non so effettivamente dove provenga. La ragazza in questione potrebbe non so essere un onlyfanser e postare queste cose abitualmente potrebbe addirittura non essere italiana come nel caso peggiore che si spera assolutamente che non sia così magari stava semplicemente mandando il video al suo fidanzato dei tempi che l'ha pubblicato in rete che ricordiamo essere un reato quindi per questo motivo qua non vi metterò il video originale ma solamente il frame che avete già visto per farvi capire che quella lì non è Alessia Lanza. Spero di aver chiedito i vostri dubbi, noi ci vediamo in un prossimo video in linea lo studio.